Per alcuni un giallo, per altri una vicenda che non sortirà conseguenze. È nata una sorta di mistero sull'elezione in consiglio regionale di Massimiliano Stellato. Secondo indiscrezioni pubblicate dalla settimanale Loionio, infatti, il consigliere eletto nelle liste dei popolari con Emiliano sarebbe a rischio ineleggibilità. Essendo un alto ufficiale della Marina Militare, capitano di Corvette e capo servizio sanitario, secondo i boatos Stellato non avrebbe presentato la richiesta di aspettativa non retribuita al momento della presentazione della candidatura e non sarebbe quindi eleggibile, alimentando le speranze del primo dei non eletti, Walter Musillo. Stellato, contattato da Canale 85, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, manifestando comunque estrema tranquillità sulla vicenda. Secondo fonti vicine al consigliere, infatti, i motivi di ineleggibilità non sussisterebbero. L'articolo 1486 del Codice di Ordinamento Militare, e fanno notare, prevede la richiesta di aspettativa in caso di presentazione al Consiglio regionale per chi esercita ruoli di comando nella regione in cui si vota, come ad esempio comandanti di basi e capitanerie. Ma Stellato, sottolineano le fonti, non eserciterebbe un alto comando, ma sarebbe un ufficiale addetto ad un servizio e potrebbe contare anche su diversi pronunciamenti favorevoli della Corte di Cassazione. Stellato, infine, avrebbe anche verificato la propria posizione prima dell'inizio della campagna elettorale. Giallo dunque, o forse no, a dirimere la questione in prima analisi sarà la Corte d'Appello che sancirà l'elenco degli eletti in tempi brevi.